fare un esperimento con questa telecamera una sony una sony hd tra virgolette perché è una 10 megapixel però è bella perché perché intanto ero fuori inquadratura ma sicuramente riesco a fare cose a causa dello zoom come vedete zoom zoom mentre mi riprendo allo specchio ora la qualità sicuramente non è quella del telefono dell'iphone con cui faccio normalmente i video ma le possibilità sembrano interessanti e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.